Il primo bacio non si scorda mai, infatti quello che vediamo alle tue spalle è il primo bacio omosessuale tra due donne in Italia su un muro e secondo te l'arte è ancora in grado di sensibilizzare le coscienze? È proprio vero, il primo bacio non si scorda mai e spero che questo sia l'inizio di tanti baci, di tante opere come questa. L'arte avvicina le persone, avvicina le persone perché a volte non servono troppe parole, a volte basta sentirsi riconosciuti, riconosciute, potersi specchiare in un'immagine. Ecco, a volte le immagini parlano da sole e questo murale parla tanto secondo me a tutte le persone che passano e passeranno qui davanti perché è un fatto di rappresentazione, in un mondo dove ci vengono mostrati solo alcuni modelli di uomini, di donne, di coppie, di relazione i giovani potrebbero avere difficoltà a riconoscersi in quei modelli se sentono di essere diversi da quell'immagine che gli viene data. Quindi anche questo lavoro, anche queste opere d'arte raccontano alle persone non sei solo, non sei sola e sono una possibilità di riconoscersi, di identificarsi e di non sentirsi sbagliato che è esattamente quello che noi vogliamo fare con il nostro numero verde, accogliendo le chiamate e le richieste dei giovani, degli adulti, degli anziani, di tutte le persone che hanno bisogno di essere ascoltate cerchiamo proprio di non farle sentire sole e di fargli capire che esiste una comunità larga, sempre più forte, sempre più visibile che li capisce e le capisce e l'arte in questo è un mezzo, un media fondamentale, fondamentale perché racconta in modo semplice le cose che noi spesso a parole non riusciamo a dire.